Presidente del sindacato, sono tanto fiera di te, papino. Questa è la tua occasione per ottenere l'uguaglianza per i lavoratori? E per stabili contatti, vita natural durante con il mondo del crimine organizzato. Crimine organizzato, medico. Don Homer, una ciambella di guide speciali per vosia, preparai. Grazie. Don Homer, un povero figlio mio, con chi desenguai ho? Molto bene. Questa ciambella è deliziosa. Riconquisterai la convenzione odontoiatrica? Eh, questo dipende da chi è il miglior negoziatore, il signor Burns oppure io. Papà, ti dò questo delizioso fermo a parte in cambio del tuo stomachevole danese. Affare strafatto. Ehi. Oh!